A Calcinelli l'ultimo straziante saluto a Davide e Fabio Zandri Ospedale, Ricci guida la mobilitazione contro la soppressione di Marche Nord Vecchio Palace, un altro milione per completare i lavori Palio, Pizza, Rossini e Ulisse Fest, continuo all'estate pesarese gli eventi Grandi concerti a Gabice con Rocco Ant, Raf, Gazelle e Madame Buona serata cari amici e amiche di Rossini TV Per questa nuova edizione del Rossini News, telegiornale di martedì 12 di luglio Che apriamo con le struggenti immagini dell'ultimo saluto a Davide e Fabio Zandri Papà e figlio morti annegati a Fano sabato scorso Vediamo in questo servizio la commozione della chiesa di Calcinelli Palloncini in cielo ad accompagnare le lacrime e l'incredulità di un dolore inconsolabile La chiesa Santa Croce di Calcinelli ha tributato questo pomeriggio l'ultimo saluto a Davide e Fabio Zandri Uno straziante duplice funerale cominciato alle 16.30 con l'arrivo dall'obitorio di Fano Dei feretri di papà e figlio morti annegati sabato mattina nelle acque agitate ed infide del mare Di fronte alla spiaggia dei fiori di Gimarra 44 anni Davide, operaio della Profilglas, quasi otto Fabio Terzo genito di una famiglia devastata da quel 9 luglio in cui un sabato in spiaggia Si è trasformato in una tragedia immane In chiesa le parole di Don Matteo Pucci hanno cercato di porgere una carezza di conforto All'immisurabile dolore di Stefania Carpignoli Che ha perso marito e figlio terzo genito Ma che con grande dignità sta mostrando forza per il suo ruolo di madre di Luca Secondo genito dodicenne Che sabato si è salvato dal mare impetuoso E che ora sta rispondendo positivamente alle cure del Salesi di Ancona Dove è stato trasferito da rianimazione a pediatria Così come del primo genito quindicenne Che in quel maledetto sabato rimase a casa Tante comunità si sono raccolte in chiesa per il sostegno alla famiglia Zandri Quella di Coglia al Metauro dove gli Zandri sono di casa Quella di Terre Roveresche da dove Davide e Stefania erano originari Quella di Fano che è stata teatro di questo dramma toccante All'altare le parole di amici, colleghi, insegnanti E del presidente della provincia Giuseppe Paolini Che si è fatto portavoce di tanti amministratori affranti In chiesa anche il personale di quella guardia costiera Impegnata per ore sabato in ricerche e per lustrazione Commozione, affetto e solidarità Quello delle oltre 1300 donazioni Che stanno portando un gesto concreto al sostentamento della famiglia Zandri Che aveva nel lavoro di Davide l'unica fonte di reddito La raccolta fondi attivata sul sito GoFundMe Ha infatti permesso di reperire ben 50.000 euro Gesti concreti per dare una mano concreta a Stefania e i suoi due figli Ad una settimana dalla presentazione della riforma sanitaria prevista dalla Regione Marche Nel Consiglio Comunale di Pesaro di ieri Si è alzata una levata di scudi contro la soppressione dell'azienda Marche Nord Un tema che ha infervorato il dibattito politico Vediamo La maggioranza in Consiglio Comunale non si arrende alla soppressione dell'azienda ospedaliera Marche Nord Di fatto sentenziata la settimana prima dalla riforma di legge sanitaria della Giunta regionale Acquaroli I capigruppo di maggioranza hanno infatti presentato un ordine del giorno In cui si invita il Sindaco Ricci a esprimere al Presidente della Regione La più recisa contrarietà della città nei confronti della soppressione dell'azienda ospedaliera Marche Nord E a richiedere allo stesso Acquaroli chiarimenti sulle intenzioni della Regione Circa le alte specialità presenti a Marche Nord Circa la classificazione dei presidi ospedalieri di Pesaro e Fano E anche sulla strategia della Giunta per frenare l'emmorragia di personale qualificato E la piaga della mobilità passiva Una richiesta allineata al pensiero di Ricci L'azienda ospedaliera è sempre stata Per chi ha seguito il dibattito sanitario regionale negli ultimi 20 anni La precondizione per avere un potenziamento ospedaliero nel nord delle Marche Il messaggio che si dà con questa riforma è Ma che volete? Le eccellenze le abbiamo e le avremo sempre più nella città d'Ancona I marchigiani per curare cose di una certa gravità devono venire a Ancona Punto È un ragionamento che dal punto di vista teorico non fa una grinza Ancona è capoluogo di Regione Ci sta Ma non funziona Non funziona perché noi La vallata del Conca La vallata del Sfoglia La vallata del Metauro Solo parzialmente la vallata del Cesano per chi conosce la provincia Tre vallate e mezzo su quattro Non vanno da ancora Non vanno da ancora E vanno in Emilia Romagna e Lombardia La famosa mobilità passiva L'ordine del giorno ha inevitabilmente acceso un dibattito in Consiglio Comunale Con i consiglieri di minoranza per lo più allineati alla riforma Acquaroli E al superamento di un sistema che si è reputato inefficace Asur regionale unica compresa Occorre ricordare che Marche Nord nasce nel 2009 Ed è nata per porre rimedio al grave problema della mobilità passiva Verso altre regioni Che rappresentava un peso enorme sotto la voce passività del bilancio regionale Nasce nel 2009 E i risultati ottenuti da Marche Nord Purtroppo, e lo dico sinceramente Non sono positivi Perché i numeri ci dicono che la mobilità passiva è aumentata Innanzitutto a me sembra che sia poco efficace l'operazione Nostalgia La difesa dell'Asur regionale è un'operazione priva di un'analisi della situazione L'Asur invece va in soffitta Andrà in soffitta, ci auguriamo Senza particolari rimpianti L'Asur unica regionale intesa E l'operazione Nostalgia, che è un sentimento nobilissimo Quello della nostalgia Francamente non è convincente su questo modello Soprattutto alla luce del fatto Che il modello dell'Asur unica regionale È un modello che non è stato intrapreso E da nessuna regione E chi l'aveva intrapreso Oggi lo sta rimettendo in discussione E lo sta cambiando E al centro del Consiglio Comunale di ieri È stato anche il vecchio Palace Nonché futuro Auditorium Palace Cavolini È stata infatti approvata con 20 voti favorevoli E 8 contrari La variazione al piano delle opere pubbliche Con l'accensione di un mutuo da 3 milioni e mezzo Per la conclusione dell'opera E l'individuazione della ditta Di fatto verrà stanziato Un ulteriore milione di euro Per chiudere i lavori Che ha fatto lievitare i costi del cantiere Fino a 9 milioni di euro complessivi Rispetto all'iniziale stanziamento Di 3 milioni e 6 del 2015 Tornano due eventi radicati Nella cultura pesarese Dopo due anni di stop per Covid Riecco il palio dei Braceri E il festival della Pizza Rossini Che si ripropongono uniti Nell'ultimo weekend di luglio Vediamo Due anni di Covid Rischiavano di dare un severo colpo di spugna Ad una tradizione popolare Radicatasi nella pesaresità E invece dopo due stati di stop Il palio dei Braceri non solo torna Ma si fonda pure con un altro must recente Della cultura pop locale Quello del festival della Pizza Rossini Un format giunto alla terza edizione Ma già perfettamente compatibile Ad un doppio evento Che caratterizzerà il weekend di fine luglio Di Rocca Costanza e Piazzale Matteotti Il palio quest'anno vuole essere una manifestazione Comunque sia che oltre a coinvolgere l'intera città Vuole comunque sia anche portare a Rocca Costanza Tanti turisti e tante persone che frequentano la nostra città Siamo ripartiti dal numero 12 di Contrade E dal numero 10 il compleanno del palio Perché noi facciamo 10 anni E quindi non c'è più un bel modo di ripartire Da un decimo compleanno Dove il palio in qualche modo vuole far conoscere ancora di più Quello che è l'entusiasmo, il colore Che in questi anni è stato portato all'interno della città di Pesaro Dal 28 al 31 luglio abbiamo un ricco programma E tutta l'area sarà suddivisa comunque sia per isole tematiche E abbiamo un'area dedicata alla musica E i ragazzi dello staff Sherry porteranno comunque sia band e DJ del nostro territorio Abbiamo un'area votata a una zona ludica Dove ci saranno dei tornei di biliardino, tiro la fune Un gioco nuovo per i bambini che si chiama Accendi il bracere E poi abbiamo l'area gastronomica che è tipica del palio Quest'anno non saranno più tante Contrade divise in stand Ma ci sarà uno stand unico gestito proprio dalle Contrade Dove porteremo tanti prodotti del territorio E tante ricette buonissime che tutti potranno mangiare Mentre bevono una buona birra e ascoltano della musica Il 31 di luglio invece è la giornata del palio A Rocca Costanza le tifoserie scenderanno nel solito fossato Per dare spettacolo E vediamo dopo Santa Maria dell'Arzilla Che è l'ultima detentrice del palio Chi vincerà quest'anno il palio Le Contrade da partecipare, l'ho già detto, sono 12 invece di 16 E si fa un grande in bocca al lupo a tutte Non solo palio dunque Ma anche il festival della pizza Rossini Che Massimiliano Santini Ha tentato di esportare In versione ambasciatore del gusto Anche nella vicina Bologna Per attirare l'attenzione sul festival Di un piatto caratteristico della tavola pesarese Da colazione a cena Abbiamo creato questa joint venture Nel senso che ci saranno due aree La prima dedicata come sempre al palio dei bracieri E quell'altra, la seconda, dedicata al festival della pizza Rossini Il festival che in questi anni ha portato la nostra pizza sulla bocca di tutti Il festival della pizza Rossini avrà anche qui una suddivisione Perché all'interno di quest'area avremo un'area ristorante Gestita dal Ceronuolta La pizzeria, una delle più famose di Pesaro Che cucina la sua buonissima pizza Rossini Poi un'area ludica dove porteremo all'interno dei contest Ovvero il divoratore di Rossini Anche questo è un bellissimo contest che ha spopolato Quindi ha chi mangia più pizza Rossini E la miglior pizza home made Quindi i cittadini potranno venire lì con i propri ingredienti Per preparare la propria pizza E ci sarà una giuria che giudicherà la miglior pizza home made del 2022 E poi il concorso Il concorso è un concorso online Che decreterà la miglior pizza al taglio O a colazione Quindi la pizzetta O al piatto E questo è un concorso che facciamo da diversi anni Importante E invito tutte le attività pesaresi a iscriversi Mandandoci una mail a info.larsini.it Con i vostri dati, riferimenti Tasse sui rifiuti ridotte di un quarto per le famiglie in difficoltà E questa è la novità prevista dal Fondo Tari 2022 del Comune di Pesaro Che ha stanziato 200.000 euro Per un'altra operazione straordinaria Che dà sostegno ai nuclei bisognosi del territorio Alleggerendo il peso dei tre quarti della tassa sui rifiuti Ad annunciarla il sindaco Matteo Ricci L'assessore alla solidarietà Luca Pandolfi E l'assessore al rigore Andrea Nobili Il Consiglio Comunale di Pesaro Ha approvato all'unanimità Il conferimento della cittadinanza benemerita All'industriale Franco Signoretti Non solo per il suo grande impegno imprenditoriale Ma anche per il suo essere sempre alleato della cultura E al patrimonio artistico del Comune Su tutto il suo impegno a sostegno Della crescita dell'orchestra sinfonica Rossini Al fianco della quale Signoretti è stato premiato Proprio ieri sera in Piazza del Popolo Nel secondo dei due concerti Xan Italia Sono partiti i lavori a case bruciate Per l'installazione delle jersey Per la sperimentazione della strettoia Lato Pesaro e la rotatoria vicino a Via dei Frutteti Una nuova viabilità concordata Tra l'amministrazione e il quartiere Otto Che vedrà attivarsi entro la settimana Per una durata di 12 mesi Nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato il servizio Della quarto Savona 15 Presente al liceo Marconi All'interno del musical E del percorso espositivo dell'istituto Dedicato all'autosimbolo della strage di mafia Di Capaci del 1992 Questa mattina la teca con i resti dell'auto In cui persero la vita Antonio Montinaro Vito Schifani e Rocco Di Cillo Ovvero gli uomini della scorta di Giovanni Falcone È stata accolta nelle cortile della prefettura di Pesaro Urbino Alla presenza del sindaco Ricci Del prefetto Ricciardi E del nuovo questore Raffaele Clemente L'auto sarà visitabile dalla cittadinanza Fino alle 23 di questa sera Fra i tanti eventi a Pesaro Arriva un'altra prima edizione L'Ulisse Festi Il festival dedicato ai viaggi Targato Lonely Planet Che si terrà in città questo weekend E che ci viene illustrato Dal direttore di Lonely Planet Italia Angelo Pitro Vediamo Parliamo di una manifestazione In cui abbiamo invitato giornalisti Scrittori, fotoreporter, musicisti A portare qui le loro esperienze di viaggio E a farle vivere al pubblico di Pesaro In un anno così particolare come quello che state vivendo Siete tutti molto carichi Per via della nomina a Capitale della Cultura E noi cerchiamo di dare il nostro contributo Appunto per portare un pezzo di mondo O almeno il racconto del mondo In questa città Il tema di questa edizione sarà Ascoltare la terra L'intenzione appunto è far dialogare i nostri ospiti Su questi temi Che riguardano ovviamente la sostenibilità Il rapporto fra il viaggiare E il proteggere il mondo in cui viviamo Perché lo sappiamo Viaggiare è un'attività con un forte impatto sul pianeta E quindi noi riteniamo come Lonely Planet Che il viaggio offra più vantaggi che svantaggi Ma è molto importante stare attenti Alle conseguenze delle nostre azioni E quindi l'appuntamento sarà in piazza Tra Piazzale Collenuccio e Piazza del Popolo Dalle 7 del mattino fino dopo mezzanotte Perché il DJ set sulla spiaggia dalla Cira Comincerà appunto dopo i concerti Di Bregovic, degli Africa Unite E di Max Casacci e Telmo Pievani di domenica sera Tra gli scrittori avremo Nicola Laggioia Che alle 5 di venerdì aprirà il festival Con un Alezio Magistralis Che toccherà, racconterà il viaggio Nel mondo della letteratura Da Omero e Giorni Nostri Ci sarà il nostro fondatore Tony Wheeler Che ovviamente è per noi uno degli appuntamenti A cui siamo più così legati Ci saranno appunto diversi giornalisti Ad esempio Sergio Ramazzotti Che ha fatto questo viaggio in Antartide Per testimoniare appunto il cambiamento climatico Seguendo le orme di Shackleton Ma ci sarà anche Omar Di Felice Un ultracyclist che ha appena attraversato Tutto l'Artide in bicicletta Anche lui per cercare di testimoniare Il cambiamento climatico E poi parleremo di grandi viaggiatori Racconteremo Chatwin Abbiamo cercato di mettere insieme elementi di festa Ed elementi di riflessione E di, come dire, occasione Per avere nuovi stimoli Nuove idee di viaggio Nel momento in cui finalmente Abbiamo ricominciato A poter varcare i nostri confini nazionali Rocco Ant, Raf, Gazzelle e Madame Questo è il poker d'assi di cantanti Che si esibiranno a fine luglio A Gabice Mare Che è stata inserita fra le cinque tappe Dell'RDS Summer Festival Un'altra occasione di grandi concerti sul territorio E un bel colpo per l'amministrazione comunale Del sindaco Pascuzzi Sicuramente in continuità con l'estate Che è iniziata in maniera brillante Dopo Disco Diva È un altro importante momento Che ha un target diverso Perché con Disco Diva e Disco Music Però quest'anno abbiamo visto anche tanti giovani Partecipare alla nostra ottava edizione Quest'anno abbiamo avuto questa opportunità importante Con una radio nazionale che è RDS Che ci ha proposto questa tappa Del loro primo tour italiano Sono cinque tappe in Italia Quindi verrà da noi Noi siamo fortunati ad aver avuto l'opportunità Di essere scelti da RDS RDS Summer Festival è iniziato ai primi di luglio A Ostia Da noi saranno a fine luglio Precisamente venerdì, sabato e domenica 29, 30 e 31 luglio In cui ci saranno due aree fondamentalmente Un'area a mare Quindi nella spiaggia libera sotto monte Ci sarà un family beach village Quindi con tanti intrattenimenti, giochi E divertimento per famiglie e bambini Tanta musica, tanti gadget Quindi sarà un momento anche per far vivere la nostra spiaggia Dalle 10 del mattino fino alle 6 del pomeriggio Poi si trasferirà nella zona sportiva Nella nostra area polisportiva Dove ci saranno tre importanti concerti Il 29 luglio avremo Rocco Ant e Raf Il 30 luglio avremo Gazzelle E il 31 luglio chiudiamo questa rassegna Con un altro ospite importante come Madame Quindi vi invito tutti a venire a Gabice Mare Quell'ultimo weekend di luglio Per divertirsi e sentire della buona musica È già partita la campagna di vendita di biglietti Avete dei riscontri su come sta andando? Sì, è già partita Naturalmente è RDS che gestisce tutta la campagna di vendita Che si potrà avere sia sul sito del RDS Summer Festival Che su Ticket One I riscontri sono buoni Quindi ci auguriamo che si possa arrivare al sold out Per quelle tre serie Vi invito oltre a sentire questi importanti concerti Anche a vivere la spiaggia di Gabice Mare Il sabato 30 e la domenica 31 E questa era l'ultima notizia Prima di salutarci però vi ricordo gli appuntamenti in serata Questa sera infatti alle ore 21.20 Ci sarà lo speciale realizzato da Rossini TV Le Buone Notti a Montelabate Piccoli Notturni Estivi nel Paese delle Pesche E poi come di consueto Vi ricordo l'appuntamento per domani mattina Alle ore 7.20 in diretta Buongiorno Rossini La rassegna stampa dei quotidiani della provincia di Pesero e Urbino E poi vi ricordo di scaricare l'app di Rossini TV Per restare sempre aggiornati Con le notizie, con i programmi Insomma con tutto il mondo di Rossini TV Sempre a portata di un clic e a portata di mano E con questo era veramente tutto Vi ringrazio per averci seguito E vi auguro una buona serata